Sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, la solenne celebrazione eucaristica questa sera alle 19.30 nella Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco. Dopo il triduo di preparazione alla festa della Santa Croce iniziato sabato 11 settembre, le celebrazioni culmineranno oggi, martedì 14 settembre. Dopo il rosario delle 19 seguirà la messa, che sarà anche trasmessa sulla pagina Facebook della Basilica. Non mancherà la benedizione con il legno della Santa Croce. L'esaltazione della Santa Croce è una festività della Chiesa Cattolica, della Chiesa Ortadossa e di altre confessioni cristiane. In essa si commemora la crocifissione di Gesù, con il particolare obiettivo di sottolineare la centralità del mistero della croce nella teologia cristiana. Il termine nasce dal rito, che prevedeva l'inalzamento di una croce e la sua ostensione ai fedeli, il ricordo dell'inalzamento di Gesù Cristo sulla croce e dell'ostensione del suo corpo sacrificale. Nella celebrazione eucaristica il colore liturgico è il rosso, il colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce. La festività ricorre il 14 settembre, il ricordo del ritrovamento della vera croce di Gesù da parte di Sant'Elena, avvenuto, secondo una tradizione, il 14 settembre del 327. In quel giorno la reliquia sarebbe stata innalzata dal Vescovo di Gerusalemme di fronte al popolo, che fu invitato all'adorazione del croce fisso.